Io rispetto gli italiani che hanno fatto delle scelte, anche se la storia ci dimostra che a volte hanno fatto delle scelte sbagliate. Mussolini è andato al governo non perché ha fatto una presa armata di potere, ma perché ha illuso i cittadini in un certo modo drammatico. Berlusconi l'ha illuso in un certo modo ridicolo. Io credo che gli italiani la prima volta li puoi indurre in errore, ma sarebbe un grave errore persistere nell'errore. Per questa ragione mi rivolgo ai cittadini italiani la prossima volta di pensarci due volte, prima di dare in mano l'istituzione a una persona che, come è stato dimostrato, l'ha utilizzata per sé, per farsi gli affari suoi, soprattutto di tipo giudiziario. Perché non è che è andato lì per altro motivo se non per sistemare i suoi problemi giudiziari. Oggi il governo ha confermato sulla mozione da lei presentata in merito alla trattativa Stato-mafia e la necessità che il governo si costituisca a parte civile, che per ora l'esecutivo invece non ci pensa proprio.